Michele Mirabella, moderatore illustre di questo convegno riflessione sulla terza età, una terza età che però ci sfugge sempre di più perché in realtà oramai si parla anche di quarta età, quindi questi rappresentanti della cosiddetta terza età sono dei giovanotti, sia come prestanza fisica che anche come lungimiranza intellettuale. A me uno, due, tre, quattro, cinque, prima, seconda, terza, fa un po' schifo. Non ti piace? No, perché la numerazione indica sempre qualcosa di funesto, una presa di contabilità. Aristotele diceva che solo la vecchiaia spiega la vita e lo diceva anche un altro filosofo dell'età contemporanea assolutamente geniale, Marilyn Monroe, che disse una volta che sarebbe bello morire i giovani per non arrivare alla vecchiaia, ma poi si corresse e disse ma se io non arriverò alla vecchiaia e non capirò niente della vita, questa dichiarazione ci garantisce che non si è uccisa. Esatto, giusto, non ce l'ho pensato. E lei avrebbe dovuto riflettere su questo perché una che scrive nel suo diario questa frase vuol dire che non ha alcun desiderio di porre fine ai suoi giorni. Detto questo, per essere più allegri, c'è un altro signore, un genio, Gianni Brera, che disse la vecchiaia è bellissima, peccato che duri poco. Allora io ho una soluzione che aggiungo alla riflessione del collega Brera, dico collega per l'amore che ho portato alla sua acume, alla sua intelligenza. Cominciamo a invecchiare un po' prima, secondo me viene meglio, se la smettiamo, e lo dirò oggi, di ritardare l'inizio della vecchiaia psicologicamente, stiamo meglio, perché campiamo più a lungo, più sereni, più saggi e se risparmiamo in cosmetici. Esatto, perché di fatto è proprio questo, questo inseguire dei modelli a tutti i costi di giovinezza. Poi a chi giova? Solo a chi vende? Sì, a fare stare giovani le grandi case dei cosmeceutici, come si chiamano, e ogni età della vita è bella. Ogni età, quindi prima, seconda, terza e quattro, cancelliamoli. Diciamo che si comincia a invecchiare appena nati, quindi la vecchiaia è l'unica età della vita. Senti, chiudiamo dicendo questo, che anche in ambiti tribali, il vecchio saggio è comunque la fonte della cultura di quella tribù. Ma beh, grazie, perché lui è il depositario dei saperi condivisi. Ma questo è bellissimo. Ma abbiamo sempre detto, io lo insegno ai ragazzi all'università, è il concetto di Husserl, che dice la cultura è il giacimento dei saperi condivisi. Questo giacimento è gestito, amministrato, governato da quelli che i saperi li conoscono. Ora, per condividerli bisogna che ci sia qualcuno in grado di raccontare. Pensa tu che se noi avessimo in questa stanza 50 persone, ognuna di età diversa, cioè tutti quanti collegati da una parentela generazionale, sarebbero in grado di raccontare la storia dell'umanità. Solo 40-50 persone, basterebbero. Pensa che io una volta ho visto un filmato in cui, antichissimo, dei primi balbetti del cinema, in cui lo zar premiava gli ultimi sopravvissuti della battaglia della Beresina. Ora, la battaglia della Beresina avviene nel 1812 o 13, qualcosa del genere, forse addirittura 14. 13. Bene, quindi questi nel 1905, ancora erano là, oltre 105-110 anni, e guardavano con gli occhi pieni di passato e di lacrime, la cinema è presa. Io, nel 2002, quando è successa questa cosa, ho potuto essere guardato, guardare negli occhi, uno che ha visto con quegli occhi Napoleone Bonaparte. Detto questo, noi lasciamo Michele Mirabella, perché sarà il protagonista, un pochino, anche l'eredine di questo convegno, scopriremo se i relatore saranno più o meno disciplinati o no. Grazie. Io vado a dirigere il traffico, più che altro. Grazie.